Non è possibile chiudere una strada per un'intera giornata con una barriera abusiva. Il responsabile del settore trasporti del Codacons Vallo di Diano, Rocco Panetta, ha presentato alla procura di Lago Negro una denuncia contro i gnoti per la chiusura della strada regionale 426 che collega San Pietro Altanagro a Sant'Arsenio. La vicenda ha avuto luogo giovedì 7 luglio scorso, il giorno in cui il comune di Sant'Arsenio ha ripreso il contrastato taglio dei pini giudicati pericolanti sulla stessa arteria. Panetta, in territorio del comune di San Pietro, la mattina si è trovato sbarrato la strada da una transenna con un cartello che faceva riferimento alla gara ciclistica dello scorso 3 luglio. Volendoci vedere chiaro, ha chiamato più volte in comune a San Pietro. Il sindaco, Domenico Quaranta, racconta Panetta, mi ha rassicurato che lui non aveva firmato alcuna ordinanza di chiusura della strada al transito e che si sarebbe attivato per avere una spiegazione. Ma sono tornato in più di un'occasione nel corso della giornata e la strada era ancora chiusa. Quando dopo alcune ore ho ritelefonato al sindaco, mi ha risposto che era in attesa del verbale del responsabile della polizia municipale inviato sul posto per capire. Nel pomeriggio, vedendo che la chiusura c'era ancora, ha continuato Panetta, così come il cartello non veritiero e la transenna, mi sono deciso a formalizzare una denuncia presso la stazione dei carabinieri di Polla. Nella querela, a cui il responsabile trasporti del Codacons ha allegato anche documentazione fotografica, Panetta ammette di essersi informato e di aver saputo che era in corso il taglio degli alberi a Sant'Arsenio e mette in evidenza non solo l'irregolarità derivante dal fatto che un'ordinanza del comune di Sant'Arsenio sancisse la chiusura della strada anche in territorio del comune di San Pietro, ma anche la pericolosità dell'assenza di un percorso edoneo per i mezzi di soccorso, visto che a suo dire la viabilità alternativa predisposta era composta da strade secondarie strette e pericolose. In serata sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri ad accertare quanto denunciato. Chiedo di sapere, dice ora Panetta, chi ha messo quelle transenne, quel cartello non veritiero. Se tutto, come penso, è stato fatto per il taglio degli alberi, tra l'altro in buone condizioni, è assurdo che sia stato messo in campo un vero e proprio blitz per delle piante, mettendo a rischio anche l'incolumità delle persone.